La vita in generale, parte seconda, 32, un chiarimento. Seba si gira verso il generale. Cosa? esclama. Che cosa hai fatto? Il generale, che intanto ha chiuso la telefonata con Zagor, gli mostra il cellulare. Ho registrato la nostra conversazione, mentre ero in linea con un amico, che ha registrato anche lui per maggior sicurezza. Non ci casco. Vuoi sentire? chiede il generale, trafficando con il cellulare, che tra le altre cose ha imparato a non chiamare più telefonino. In realtà non è convinto che sarebbe riuscito a usarlo da solo come registratore. Quando il generale ha lasciato la sala a riunioni, ha chiamato Zagor e gli ha chiesto istruzioni. Dopodiché, senza interrompere la telefonata, ha avviato la registrazione e ha attirato Seba nella trappola. Ecco, ascolta, dice adesso il generale. Ho mandato un po' avanti. Qui dovrebbe andar bene. Dal cellulare esce la voce di Seba. È nel punto dove parla del cambio di faccia e di documenti. Figlio di puttana! sbraita Seba avventandosi sul generale, che gli assesta un gran bel calcio nel palle. Seba urla di dolore e indietreggia, finendo con le spalle contro la finestra. Il generale preme stop e rimette in tasca il cellulare. Ah, quanto ho deserato poterlo fare! esclama soddisfatto. Quando doveva indurlo a confessare, ha ceduto a una insondabile fragilità. Ma ora no! Gli anni lo hanno indurito. Il generale sta per riprendere il discorso con Seba quando la porta si apre. Che cosa sta succedendo? chiede lo squalo. Abbiamo soltanto avuto un chiarimento. Prima che il generale riesca a intervenire, Seba approfitta del diversivo e si lancia verso la porta. Via, dice allo squalo, mi faccia passare. Dottor Rosori, ma che... Devo andare, dice Seba, ma devo andare via. Lo squalo lo lascia passare e anche il generale non fa nulla per fermarlo. 33. Solo una foto. Sebastiano Barbieri, oggi ma non per molto tempo ancora, noto come Matteo Rasori, si impone di non correre e mantenere un contegno, mentre attraversa la holle ed esce nel parcheggio martellato dalla pioggia. Punta verso la Ferrari, che gli sembra già appartenere a qualcun altro. E' bastato così poco. Il suo castello di carte è crollato. Ora è confuso, rabbioso, ma soprattutto è impaurito. Ha paura del futuro. E ha paura del passato, che tornerà a prenderlo. Se non altro, nel presente è riuscito a cavarsela soltanto con un calcio nelle palle. Gli fanno ancora un po' male, ma poteva andargli peggio, a giudicare da come lo stava guardando Mario Castelli appena prima che entrasse lo squalo. Sebastiano raggiunge la Ferrari. Si guarda attorno, proprio come farebbe un ladro. Al momento nel parcheggio non c'è nessuno. Piove troppo. L'unico movimento è il portello di un pulmino che si sta aprendo. Sebastiano si fruga in tasca in cerca delle chiavi con il telecomando. E' impacciato. Quando le trova, gli cadono di mano. Si clina a raccoglierle. Quando si rialza, vede tre tizi avvicinarsi. Due sono grossi, massicci. Uno con una giacca blu e l'altro con un completo grigio. Il terzo è piccolo e rotondetto. Anche lui in grigio. Lei è il dottor Rasori, gli chiede quello grosso con la giacca blu. Sì, dice Sebastiano, esitante. Gli sembra la risposta sbagliata. Stavolta fai tu, chiede quello con la giacca blu, all'omone con il completo grigio. Volentieri, dice lui. Sebastiano percepisce uno spostamento d'aria davanti a sé. Poi il suo setto nasale subisce una seconda trasformazione, dopo quella operata da inetti chirurghi plastici sudamericani. Stavolta è gratis, ma il risultato è ancora peggiore. Sebastiano crolla a terra, urlando. Da dietro una nebbia purpure assente delle voci. Zagor, metti via quel cellulare. Ti sembra il momento? Solo una foto, per il generale. Un clic, i loro passi che si allontanano, il portello del pulmino che si richiude. Poi altri passi che si avvicinano, di corsa. Sebastiano riesce a mettere a fuoco un tizio con la divisa dell'albergo, chino su di lui. Signore, chiamo il 113. Se ne vada, urla Sebastiano, non ho bisogno di nessuno. Si alza in piedi, raccoglie le chiavi, combatte contro il dolore. Respira con la bocca, perché ormai il naso svolge la sola funzione di sanguinare. Apre la Ferrari, si mette al volante. Fa una goffa manovra, lasciando uno sfregio rosso sulla fiancata nera della Jaguar. Sfiora l'impiegato dell'albergo, che è rimasto nel parcheggio a guardare, esterrefatto. Alza gli occhi, verso lo spacchietto retrovisore interno. Scorge una faccia devastata che non riesce più a riconoscere. Le lacrime si mischiano al sangue. È finita. 34. Fuori dal cerchio. Ripeti, ascolta la voce di Matteo Rasori, o almeno quella che credeva essere la sua voce. La stanno ascoltando tutti nella sala riunioni. Proviene dal cellulare che Mario Castelli ha appoggiato sul tavolo dopo essere rientrato insieme allo squalo e senza Rasori. Se n'è andato, ha rannunciato Castelli. Non tornerà, ma può dirvi lo stesso qualcosa? Poi ha attivato il cellulare. Così, adesso, Ripeti, come tutti i presenti, ascolta la confessione. Scopre che quella di Matteo Rasori è stata un'identità inventata, un'intera vita inventata, una storia. Una storia di cui Ripeti riesce a vedere la forma. Ripeti conosce il passato di Mario Castelli. Cerca nella memoria, crea collegamenti, traccia linee. La storia gira su un cerchio. Mario Castelli e Sebastiano Barbieri si conoscevano fin da ragazzi, ai tempi della scuola. La storia comincia da loro due, assieme, e finisce con loro due, assieme. Un cerchio. Questa è la forma della storia. Un cerchio che si chiude e Ripeti è fuori. Fuori dal cerchio. Un personaggio senza più una storia. O forse appartenente a un'altra. Mentre la voce di Rasori continua a uscire dal cellulare, assieme a quella di Mario Castelli, ogni tanto qualcuno al tavolo scruta Ripeti. Si staranno chiedendo fino a che punto è stato coinvolto nelle trame di Rasori. Ripeti continua a pensare a lui con quel nome. Lo sguardo di Rita Contini è particolarmente duro quando si arriva al punto in cui Rasori annuncia le proprie intenzioni riguardo all'Itallum. È chiaro che Ripeti non poteva esserne all'oscuro. Giocavano nella stessa squadra, la stessa partita. Lo sguardo che lo squalo rivolge a Ripeti è pensoso. Starà chiedendosi se la loro segreta alleanza ha ancora un senso. E la risposta è fin troppo ovvia. La registrazione finisce con un grido interrotto di Rasori. Che cosa hai? Castelli prende il cellulare e lo mette via. Il dottor Matteo Rasori non esiste più e non tornerà. Cala un silenzio pesante come una lampide. Poi Rita interviene. Bisogna denunciarlo, rivolgersi a un avvocato. Dopo, dice lo squalo. Prima finiamo questa riunione. Rita scuote la testa. Devo fare la mia proposta di acquisto da parte dei miei clienti. O la faccio qui adesso o mi ritiro dalla trattativa per sempre. Decidete voi. Lei sta scherzando, esclama Rita. No, si intromette Mario Castelli. Non credo che al dottor Busatta piaccia scherzare. Lo squalo mostra i denti. Non in casi del genere. E rivolge uno sguardo ai delegati delle banche. Ditemi voi se devo andare o restare allora. Ma se me ne vado? I delegati rispondono tutti assieme. Le voci si mischiano, ma la risposta è chiara. La trattativa va chiusa. Adesso nessuno guarda Repetti. La MMB ormai è fuori gioco. Lui potrebbe andarsene a questo punto. Nessuno cercherebbe di fermarlo. Ma sente di non potere. Appartiene a quest'altra storia. Ne è prigioniero in quanto personaggio. Ce la sbrigheremo alla svelta, dice lo squalo. Ho avvertito il notaio della Mediantibus. Basta una telefonata e sarà qui. Prima però dobbiamo metterci d'accordo sulla cifra, interviene uno dei delegati. Quella la sapete già, risponde lo squalo. 500 milioni. La Contini esplode. È una miseria. Miseria è un'altra cosa, dice Castelli, pacato. Appoggiando una mano sull'avambraccio di Rita. Qui però il problema non sono soltanto i soldi. E che altro allora, chiede lo squalo. Le esprospettive di sviluppo dell'azienda. L'accordata che lei rappresenta deve impegnarsi a sottoscrivere il nuovo piano di ristrutturazione aziendale. Ripetti e si aspetta che lo squalo scoppia a ridere. E infatti succede. E come pensa di convincermi? Se non accetta, sottoscrivendo un impegno contestualmente all'offerta economica, mi dimetto subito, dice il generale. Può comprare l'azienda, non me. E lo stesso discorso vale per il mio staff. Lo sguardo di Ripetti stringe su un primo piano dello squalo. Si aspetta un'altra risata. Che non arriva. Lo squalo sembra colpito. Rita rientra nella discussione. Dottor Busatta, stavo a punto per esporle le conclusioni del nuovo piano di ristrutturazione che ho elaborato con l'aiuto di Mario Castelli. Le conclusioni da sole non significano nulla, ribatte lo squalo e sollecita Rita Contini. Mi faccia vedere nel dettaglio. Immagino che abbia tutto nel suo computer. E Ripetti capisce. Capisce che lo squalo vuole dare una lezioncina alla ragazza davanti a tutti. Non sa resistere a questa tentazione. Ripetti dovrebbe intervenire. Opporsi. Ma a quale titolo? Con quali parole? Nella sceneggiatura non è scritta nessuna battuta per lui, anche se la sua parte sarà importante. Può solo stare a guardare. Il suo ruolo, ora, è quello. Intanto Rita ha passato il portatile allo squalo che si è messo a studiare lo schermo con le dita sul trackpad. Sta scorrendo la relazione. Ripetti sa che cosa cercano i suoi occhi. Quei numeri, quei dati. Ma non li trova. Lì ce ne sono degli altri. Quelli veri. Adesso lo squalo sembra sorpreso, poi assorto. Alza lo sguardo dal computer. Lo sposta verso Ripetti. Scopre i denti. Sembra quasi di sentire il rumore dei suoi pensieri. Ho capito, dice. Ed è vero. Ripetti sa che è vero. Lo squalo ha capito. Si fissano loro due e tutti gli altri al tavolo adesso gli staranno osservando. Ripetti non ha bisogno di guardarli per saperlo. Sì, ho capito tutto, dice lo squalo. E te lo dico qui, Ripetti, davanti a testimoni anche se non posso spiegare tutto. Una pausa prima di continuare. Io ti rovinerò, Ripetti. Non è una minaccia. Consideralo un dato di fatto. Non sarà nemmeno troppo difficile. Qualcuno ha già cominciato il lavoro per me. Lo squalo fa un cenno verso il generale. Matteo Rasori, anzi Sebastiano Barbieri, finirà in giganteschi guai. Trascinerà nella merda tutta la MMB di cui sei socio anche tu. Perderai il lavoro. E non ti aspettare una gran buona uscita. La quota societaria non varrà più un cazzo. Dovrai bussare ad altre porte. Ma ci sarà un problema. Altra pausa, altro sorriso. Nessuno vorrà in casa un perdente. E soprattutto un nemico dello squalo. Perché tutti hanno paura di me. Anche tu adesso. Ed è vero. È così. Ripetti, scopri dentro sé la paura. È come un'onda che lo trascina via e lo riporta lì. cambiato. È come una nascita che avviene attraverso il dolore. Ripetti ha paura. Riesce ad aver paura. Riesce a provare questo sentimento così umano. E allora Ripetti dice una cosa che per nessuno in quella stanza avrà un senso, tranne che per lui. Grazie, dice Ripetti. 35. Dopo il divorzio. Si fa festa nella base operativa. Dopo averli riaccompagnati lì, Carlo è andato a prendere da bere e da mangiare per tutti. C'è anche la musica che esce dalle potenti casse del pulmino parcheggiato all'interno del cappannone. Sono canzoni nuove, sconosciute. Quando si vive per strada la musica non ti arriva, se non da lontano, confusa con i rumori della città. Ma adesso non sono più per strada. Non ci staranno più. Tutti sanno già che cosa è successo, ma andranno avanti a raccontarselo ancora e ancora. Ma hai visto le facce dei delegati delle banche quando tu hai rilanciato l'offerta? Se la sono fatta addosso, dice Rita. Ho visto le loro facce quando lo squalo ha accettato, risponde il generale. Se la sono fatta addosso anche in quel momento, ma dalla gioia. 50 milioni in più, non sono pochi. Li ha sborsati a patto che tu rimanga nella IT Allum. E ha pure sottoscritto l'impegno per lo sviluppo dell'azienda. Ti rendi conto di quanto vali, generale? Non io soltanto. Rita inarca con grazie a un sopracciglio. Hai ragione, vuole che resti anche tutto il tuo staff. E controllerà che ciò avvenga. Gli accordi erano già che tu li dovessi assumere, Rita. Sì, ma non come dirigenti. Il generale osserva i suoi soldati. Si stanno divertendo. Sono felici. L'Ucraino e Teresa ballano a fuori tempo, abbracciati. C'è una musica che sentono soltanto loro. Muto sta raccontando qualcosa a muffa, così sbronzo che sembra esibire un pensoso interesse. Nerone e Sbarbo si contendono una bottiglia, per poi decidere di prenderne una a testa. Osso si prepara un panino che sfida le leggi della geometria e della fisica. Zingaro ride, guardando Zagor ballare. E ride anche Zagor. Ride come un bambino. Una soluzione si troverà, anche per osso e Zagor, dice il generale, tornando a guardare Rita. Impareremo. Sono gente in gamba. Ciascuno a suo modo. Gente che sa cavarsela. E poi ci sei tu, generale. Li guiderai, dice Rita. Lo hai fatto per loro. Per loro e per te, precisa il generale. E per tua madre. Lei non ha mai voluto cercarti, forse perché aveva paura di trovarti, di quello che avrebbe trovato. Rita si versa un bicchiere di ribolla gialla. Ne beve un sorso. Il generale aspetta che lei riprenda a parlare. La mamma non avrebbe mai accettato che ti coinvolgessi, ma adesso sarà felice che io l'abbia fatto. Il generale sospira. Dovunque si trovi. Beh, lo vedrai con i tuoi occhi, dice Rita. Vuoi portarmi a trovarla al cimitero? Non proprio, risponde Rita. Sai, dopo il divorzio si è trasferita nella sua vecchia casa. I nonni sono morti. Rita non riesce a finire la frase. Del resto non serve. Guarda il generale con quei suoi occhi che le farebbero perdonare qualsiasi peccato. E infatti il generale la perdona.